Utente siamo già amici Ciao ragazzi Allora Gianandrea chi è l'influencer De Vinder? Ah Jacob e Gian ok Allora Jacob è quello stealth Quindi puoi sammonare un corvo che puoi mandare avanti in avanscoperta Puoi stealtharti Quindi vai in stealth Velo esatto E poi hai fermacuori che consiste in un'arma Fantasma che tu evochi per Dare il colpo di grazia ai vampiri Perché tu considera che nel gioco I vampiri possono essere indeboliti Ma ai vampiri grossi serve il colpo finale Il colpo finale lo si dà col paletto Quindi la sua Burst, la sua abilità finale Evoca quest'arma Che impala Poi abbiamo Laila Laila L'ascensore Ah e può creare giusto si vedeva nei tre Sì lei crea un ascensore Che ti fa salire in alto E poi ha l'ombrello che è una tattica Difensiva Uno scudo E quella che evoca il suo ex Che ti dà una mano a menare È carina E considera che ogni abilità può essere customizzata Cioè puoi scegliere proprio i rami poi di abilità Cioè per dire che ne so L'ascensore lo vuoi più alto O lo vuoi che dura di più L'ombrello lo vuoi più grande O lo vuoi più resistente Cioè puoi scegliere poi dove andare a mettere i punti L'ex lo puoi personalizzare? Sì Anche l'ex lo puoi personalizzare Non nell'aspetto Ma nelle abilità Wow Questa è una scelta bizzarra Quella di donare la ulti a Laila Come l'ex ragazzo Non è una battuta ragazzi Chiedi un favore al tuo ex ragazzo Jason Che caso vuole sia un vampiro È un vampiro Poi c'è Divinder Dev Divinder Elettrolancia Scaglia un elettrolancia contro i nemici O le superfici per creare una trappola di fulmini Ok Sì Quindi un pochino ranged Sì considera che lui È un po' sì Perché considera che è alla fine appunto l'influencer appassionato di occulto Che utilizza un sacco di Sì Utilizza un po' di oggetti strampalati Che una volta non funzionavano Quando lui faceva lo streamer Ma che ora in realtà funzionano Quindi Si è riscattato Sì sì Si è riscattato Intrappolato Senza la possibilità di trasmettere in streaming Per i suoi fan Cazzo Questo è veramente terribile Questa è la prima È il nostro incubo Esatto È il nostro incubo Oh no Sono dentro adesso Oh no L'esclusiva ingegnera ingegnosa Lei è la mia preferita Questa te la lascio se è la tua preferita Sì sì Lei è la mia preferita Vedi però già c'ha le bombe no la lampa Esatto No perché ha l'esplosivo al C4 A Bribon Che è bellissimo Questo robottino Questo che tira fuori E inizia a suonare Questa sirena Che attira tutti i vampiri È tipo un tank E me ne hanno tutti i Bribon E poi ha mobilitazione Che invece cura Ma io me la in Giacobbo allora Vai Va bene Squadra non pronta Che significa? Devi mettere pronto Metti pronto Come mi pronto? C'è un pulsante Molto grande In basso a sinistra Va bene vado Andiamo Vai let's go Ma perché sei Gianandrea Moyà? Perché a me piace sempre interpretarlo nei giochi se posso Diciamo che il mio pedigree da quando sono piccolino E cercare Gianandrea Moyà nei giochi Cercare di diventare Gian Meno lui Sì sì Attenzione Attenzione È colpa mia Stai vedendo anche tu la cutscene? Sì Doveva essere un bel posto Quindi i vampiri nascono dal sangue di Gianfranca Di sta tipa mi sa Sì Ah Hanno preso più di una goccia Hanno preso ogni cosa Ulala Ora Il male sta inghiottando questo posto Un pezzetto alla volta Quando la gente si è resa conto di cosa succedeva Era già troppo tardi Un po' Umbrella Ora si scannano a lungo Eh sì Riprodursi alla vecchia maniera si vede che non gli piaceva No Ti piacerebbe vivere uno scenario simile? No Che domanda è essa? Non lo so C'è chi invece sarebbe felice di vivere una sorta di apocalisse zombie o vampirica Sono qui Melascillo Strimmo Facci il caffettino Cosa che glielo impedisce Una città E che figo sto vampiro Piena di vampiri La musica è carina però Sì Anche il design dei vampiri non mi dispiace Sono disegnati in modo abbastanza particolare Ok qua si ciuccia Si ciuccia Si ciuccia Vabbè senti Non senti Ah no ok ok Sì sì no Invece sta un po' ciucciando Eh esatto Non avevo visto la ciucciata Vampiro nutrimento Nutrimento Esegui i nutrimenti Ah e via È arrivata l'altro Georgia cosplay Ma come Georgia cosplay Per me tutte le ragazze sono Georgia cosplay Sono tutte Georgia cosplay Beh beh insomma mica male Ulala hai ragione la capa Eccola qua Bicio cobarde eccola È Giulia È Giulia È Giulia È Giulia Eccola eccola Prima dell'afterino È Bicio Posso usarvi Giulia vuole usarci Francesco come rispondiamo a questo Non lo so Non lo so Io mi faccio usare No io mi ribello Non ho capito cosa è successo E altrimenti non ci sarebbe il gioco Dicono i ragazzi Ma secondo me più perché vogliono fare alla Matrix Una Uomocultura Esatto Stavo pensando la stessa cosa Probabilmente hanno bisogno del sangue È la prima volta anch'io che faccio Stato a questa parte Ho spiegato che fin ha fatto tutta l'acqua della baia Praticamente i vampiri hanno tirato su un muro d'acqua Ok E ci è impossibile attraversare Quindi siamo bloccati all'interno di Redfall Ok Sara fai attenzione però fai attenzione Vado io che sono un giocatore più esperto Esatto tu sei Sì bravo Allora non posso rompere e rompi il vetro Ma se sparo Ok ha funzionato Ha funzionato Scusa Sara Sara col tasto dentro fai la mira dei figli va bene Eh sì Ok Dimmi che non lo sapevi Di solito è così in tutti gli sparatutto Francesco Grazie Francesco Necrisi sì attenzione però Perché ho visto già un vampiro lassù Dove l'hai visto? Eh lo sto mirando Con la modalità mira Quella che si usa con la destra Esatto Lo vedi? Vabbè vabbè Avviciniamoci Sì però ricordati che qui bisogna fare il passo della pantera a pella Esatto Ci sentono Ci sentono Attenzione È meglio evitare la gente del posto Combattere o nascondersi Vai Eh però se andiamo Colpito l'uomo Colpito l'uomo Hai attaccato? Ah quindi niente stealth No 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 ma li ho attaccati ma loro non so Ma di cosa stanno morendo di infarto? Eh no gli sto sparando Ah ok sei tu E lo spara tutto Francesco Perché sono molto lontani Quindi anch'io gli faccio uno Non è qualcos'altro che li sta uccidendo No non è qualcos'altro Questo qua però si ha preso uno di danno Attenzione Sono vicini Sono molto vicini Ok ok Sono quasi morta io Cura Allora con Q Con Q ci si cura Ci sono io ci sono io Ti preoccupare Yes Punto su di te No no preoccupa ti preoccupa Ma io posso Posso curare te Posso mettere il martello ragazzi Io ti posso curare Sì sì Saido è un conscious gamer Assolutamente Che cosa vuol dire? Conscious gamer Che sei Sei uno che sa quello che fa Ah no assolutamente Io ho sempre Coscienza proprio Conscious Conscious gamer Aspetta aspetta C'è Giulio Panfili Stai attenta Dove vai Giulio Panfili Aspetta È qui Ah sì sì Li vedo Li vedo Sicuramente colpendo Jacopo è morto Vai su Luciano Vai su Luciano No 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 Ti sta sparando qualcuno Ma non so chi È Luciano Non so da dove È Luciano ma dov'è È morto È morto L'hai ucciso? No ce n'è un altro Ecco C'è Giampiera No è Giampiera Ah ok Morta Vai Però c'è ancora la musica tensiva Esatto Quindi vuol dire che non sono tutti morti Oh oh Attenzione Ah un flare Un segnale Eh sì Rick flare Andiamo alla stazione di pompiere Ecco la stazione No scusa Sara Sara Torno un attimo indietro Torno un attimo indietro Torno 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 Corri Corri ti prego Adesso guardami correre Vai vai La corsa è molto divertente Vai Guarda le mie gambe Sì sei molto bislungo È tipo È tipo Devilman Crybaby Sì Ma se io sparo a questo estintore Ok Grazie Ma ti ho fatto male? Sì Aspetta ti curo Molto meglio Grazie Grazie Ok ti stai curato Molto meglio C'è Tapirulana Aspetta Ah Tapirulana bisogna farlo Fa vedere Sì Ok fallo tu per favore Voglio questa esperienza visiva Vai Sto correndo un sacco Hai visto? In realtà non ti vedo correre Ma ti vedo salire sul Nemmeno io ti vedo correre Ah ok mi hai illuso Sì Grazie Prego Che ha sbloccato la porta È un piacere Allora vai Tu quello a sinistra Io quello a destra Va bene Va bene Ok Vai Ci sei? 3 2 1 Vai 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 fuoco 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 Libero Anche il mio è a terra Sì anche il mio Bussa Sono dei soccorsi Devo di doverli fare sempre No Fra Sì è vero Scendiamo e facciamo La vera ghostbusterata Aspetta un attimo Sarà importante una cosa Vai Un attimo la luce Vengo Ok Cosa mi vedi fare? Pronta? Sì Stai mirando Sì ma come mi sto muovendo Muoviti Vuoi provare a premere il tasto destro molte volte? No Però tu stai dondolando Sì Ma sei epilettico? No 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 però volevo Volevi? Se fosse possibile vibrare in questo gioco Puoi vibrare guarda Io sto vibrando Ah beh Ma io non ti vedo vibrare Ok ok ci siamo Vibriamo? Vibriamo insieme? Stai facendo Cioè io sto facendo Su e in giù da te Anch'io sto vibrando Ok perfetto fantastico Mani Charleston Ok Ripristina la corrente nella stazione dei pompieri Libera i civili in trappola Cosa vuol dire? Nel senso sotterraneo E allora ghostbuster Sotterraneo Dobbiamo trovare il sotterraneo Qui qui Bravo C'è la Fanda C'è Splinter Un po' di Fanda Vorrei la La Coke La Jitter La Dottor Ray La Swell La Fanda Vorrei una Sunny Null Bravo brava Sunny Null Fucile Fucile a pallettoni Oh il fucile ci piace Attenzione Attenzione Watch your step Sacco di sangue Francesco Oh sangue Ombre Sono le tue Non sono le tue No Qui l'ho visto nei trailer Qui c'è Billy C'è Billy C'è un vampiro C'è un vampiro Stai indietro Stai indietro Guarda che cosa faccio Vai vai Non è una lampada UV però Non sei nessuno senza una lampada So dove mirare Ma non mi fa niente ragazzi Sì Gli fai Gli fai No no Dov'è Billy L'ho perso Eh anch'io Andato via Oh no Sta tornando Sta tornando Eh però Vuoi un po'? Gli ho fatto il colpo badulpo Aspetta Eccolo Eccolo E bo come lo finiamo Trafiggi Ok Oh Yes In polvere Perché se no si E ho guadagnato Ho guadagnato Lo zeta Sì Guarda come vibra Abribo Piace? Sì Credevo di poter salvare la gente Da ogni tipo di pericolo Ma questo casino È quello che mia nonna Definirebbe Arroz con culo Cos'è un arroz col culo? È possibile Per fare evacuare la gente Un arroz col culo Sì Non mi aspettavo un nemico C'è un arroz Con il culo E prosciugare l'oceano Aspetta Qui c'è casa del mio nonno Un attimo Andiamo a vedere se il nonno è vivo No purtroppo è morto Niente Però potrebbe resuscitare È vero Però poi dobbiamo ucciderlo Eh vabbè Rimane comunque Che ha rivissuto Almeno per un momento Della sua vita Mettiti vicino alla moto Devo fare una prova No no Lo so cosa vuoi fare No Attenzione Mierda Mierda Me l'hai fatta esplodere addosso No Volevo farlo io Lo so Vampiro Ricaricando Trafiggi Perché Perché Non male Ce ne sono altri Mando Bribon Vai Bribon Vado col fucile Attirali Bribon Legnaiolo Oh che cazzo skill è Che bella sta skill Vai ho trafitto tutto Grande Ti rivolto Ti rivolto Come un calzino Ugne in faccia Sto ricaricando Ti duce a rinsaldare Ah ho imparato a usare il calzio anch'io Fra Hai imparato a usare il calzio Ah guarda Fammi vedere Con F Sì Guarda Brofist Vai Aspetta 3 2 1 Bello Ah è dietro di te Lo vedo Lo vedo Aspetta Grazie Sì è morta Cosa mi hanno fatto? Eh Ti hanno colpito E ti hanno fatto esplodere Francesco Ah Ok Siamo più forti in gruppo Vai vai Ottima Merda Oh niente Hanno rinforzo in arrivo Vai Sto che li abbiamo fatti tutti Cosa speri di salvare? Oh no Forse no Ancora ce ne sono Ancora ce ne sono? Eh so Sì Ti sta sfruttando Divento invisibile No che cazzo? Cosa è successo? Hai sparato tu Sara? Ah Avevo appena tirato un panetto di dinamite proprio lì Non capiterà Se frego Non ti ho visto arrivare Sei arrivato troppo Non preoccuparti Non possiamo aprire niente senza che ne mi ha detto Eh no è finito il gioco Sara Ah game over Mi hai chiuso dentro Stupido No No mi tiri il C4? No ok Che cosa stai facendo? Sta vibrando Ah Sara dove stai? Divento invisibile Mi vedi? Sì ti vedo Che folle Volevo chiuderti la morte E sono invisibile Sì percepivo la tua risalta Da Capivo Che si in qualche Ma aia Tranquila Tranquila Come tranquila tranquila Sto male Abbiamo sbloccato il pv Mi stai curando Sì Ti curo Sara vera Abusiva Sono tossica Esatto esatto Ah ma sotto sei andato Sì c'è una roba dietro questa macchina Non riesco a aprirla Arrivo Quel che la apro io con la mia grazia E il mio C4 Mi sta facendo il trappolone Vediamo eh Dice bagagliaio chiuso ma mi sa che te ce l'hai l'oggetto Questo qua Ah sì sì ce l'ho ce l'ho Vai vai Aspetta Allora È quello? Non Lo so cosa volevi fare Non puoi fottermi Francesco Cioè se Non mi fai mai che usci casca in questo Io sono quella che le fa Stico Sì ma tu non hai capito Tu e io siamo uguali Quindi tu non mi puoi fottere Perché io sono già avanti a te Questa cosa mi fa veramente piangere Sono rimasto molto male I ragazzi possono clippare il momento in cui si spezza il cuore Ma io ce le ho le bombe Ho preso il personaggio sbagliato Io ti posso tirare addosso il corvo ma Insomma Ah ho aperto la porta Non adesso Ah sono a terra No Cosa? Cosa volevi fare? Ah vorresti essere rianimata Per caso Curo Lili Tutto sgombro Ah sì vorrei Sì vorrei Vribon? Vribon? Non ti vedo Vribon? Aspetta ti tiro l'uccello Ecco tieni In ricognizione Va bene Grazie Amicizia ripristinata Fiducia rinsaldata Fiducia rinsaldata Ti curo anch'io Sì però prima dobbiamo battere Oddio Giovanni Rana No Ah lo vedo Giovanni Rana C'è un cieco È morto Come hai fatto? Ti ho sparato No non l'hai ucciso Qua sopra Ok Ho sparato anche a quelli Arrivano altri cattivi No Let's go Ho però Giovanni Rana Sì Siamo stati molto bravi È stato molto divertente Wow Avete trovato le piantagioni È stato divertente È stato molto divertente È stato divertente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti